Sono 102 le candeline della campionaria alla fiera di Padova, la rassegna più storicamente importante della realtà euganea, che per l'edizione della ripartenza ha allestito un programma di assoluto rispetto in nove giorni dove i padiglioni resteranno aperti fino alla mezzanotte e dove la manifestazione si erradicherà nel territorio, ospitando incontri con i candidati alle imminenti amministrative, nonché rassegne ed iniziative rivolte al grande pubblico con un occhio di riguardo a famiglie e a giovani. Inaugurazione in pompa magna alla presenza delle massime autorità cittadine, con il concerto dei Pollicini, espressione assolutamente teen, cioè giovane, degli allievi del prestigioso conservatorio Pollini. Non risulta sempre facile inquadrare gusti e tendenze, ma l'impressione è che si sia voluto puntare ai gusti primari della collettività, valorizzando le attività artigianali e le peculiarità del territorio, nell'affermazione di una realtà tornata finalmente in presenza e quanto mai desiderosa di aprirsi, in tutti i sensi, alla voglia del cittadino di tornare a vivere la propria quotidianità nel senso di collettività. Tante le iniziative con novità assolute e sorprese nel segno della musica, dell'ambiente e della natura più in generale, con un occhio di riguardo alla gastronomia, padovana, veneta ed italiana, a sostegno di una tradizione da valorizzare e tutelare, risorsa straordinaria anche e soprattutto in tempi di pandemia. La fiera campionaria è aperta sabato e domenica a partire dalle 10, gli altri giorni della settimana dalle 16 e 30, come detto sempre fino alla mezzanotte. Anche questo è un segno della voglia di ripartenza che la Kermess padovana vuole esprimere in tutta la sua prepotente forza, anche se rimane un'accortezza da continuare a rispettare, l'assoluta prudenza nella condivisione con gli altri, ricordando quelle norme di sicurezza che non possiamo ancora permetterci di cancellare.